ragazzi la scuola è finita e io non so più che fare tutto il tempo dedicavo allo studio adesso è vuoto cioè il mio senso è il dovere che mi costringe a trovarmi un lavoro a trovare un'occupazione che conta quindi ragazzi potrei arrivare a caricare 5b al giorno di video tradotti su youtube perché altrimenti non so non so proprio che fare cioè il mio senso del dovere mi dice di farlo io forse ho più impegni d'estate di che durante scuola esempio tipo la mattina sono sempre in spiaggia è un dovere per me tu pensa pensa alla gente in montagna che non può andare in spiaggia ragazzi io ho indovinato un po sono riuscito ad impararmi a memoria un po di mosse ma non di questo tipo non di ma di un'altra infatti dopo lo usiamo infatti io mi staranno no mi ricordo con quello della volta scorsa no 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 io finisco che in play se continui così eh bronzerzo no 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 niente minivanato solo stico che e questa versione non mi piace tantissimo no dai porca troia merdinsky merdonsky toto toto via no colpo allo stinco vincente questo gioco è formato da colpi agli stinchi per domanda per cento è finito come te quello lì dai niente no perchè non potrei dire su youtube ragazzi cosa ha fatto non sei neanche te madonna a teletrasporto qualcosa di simile madonna quanta vento posso amare in teoria è una mossa per me per me è inutile dio buono dio buono no culo no no ma di perché fa sta roba qui perché se premi i pulsanti per farlo si guarda madò inutilità io non so che posso usare dio buono rimane ok 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 nooo trololololololololololololove lo so usare mi fa anche questa mia muori, muori, muori d'annato, muori allora, lui tutto convinto, ora sono le mosse non mi batterai mai più questo di merda mai più se il montante mi partiva non eri morto dammi con glao e vedi come ti ha dai, ma puoi avere pietà per una volta lo so hai perso, ti meriti questo come si chiama cosa c'è, Robin Hood? Robin Hood giapponese Robin Hood giapponese la violenza infatti, guarda a casa, è un ladro oh, copia e incolla da Robin Hood facciamogliela chiamandola, altrimenti è lo stesso personaggio ok, ti ho vinto a mandandoti la faccia sei un tizio sfacciato ok, bene, ora aspettate, aspettate, sentite era solo dello schiaffo bravo cosa mi sombre mi sombre del cinese che spacca il culo no, aspetta, torna indietro la variante figa adesso mi piace adesso si adesso è giovane, non vecchio decrepito come te tu è il personaggio vecchio decrepito tu sei vecchio decrepito ah, ti ricorda qualcosa questa mo ti ho buono eh, 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 comincio nooo guarda che cominciò, eh, cominciò, eh mi stairando, mi staiando, mi staiando, mi staiando mi staiando, mi staiando, mi staiando chiamola no guarda che sto qua è wow sei gaiolo ho parato si ho parato video buono cosa ho fatto non so cosa ho fatto ho fatto una parata strana dai non posso perdere con cui aspetta no 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 devo saperlo anch'io cosa ho fatto ah ok 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 si va beh tu puoi guardarti lui può guardarci le mosse perché oddio poverino non sa niente ma se devo guardarle io perché mi dico una cosa e no non vale tu sei già tutto ma vai a cagare nasconditi nasconditi va no mi arrendo vaffanculo tua madre è una ora ti ho trovato ti ho fatto una parata è una mossa che ti parla ma basta picchiare verrendo vaffanculo ora ti spiezo in due no 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 adesso lo spiezo in due interamente oh mio dio ma mi sta rando che è una meraviglia appunto che hanno un po' stilati facciamo un episodio lungo speciali 17 iscritti perché speciali ricominciati no mio dio dobbiamo tantissimi peggipa ci fa una pippa abbiamo abbiamo anche un fan che ci commenterà tutti i video ok farra togliobono adesso non si può perdere non assai usare questo come hanno aspettate ero ero non era neanche nebisodio stavano cazzeggiando e lui voleva testarsi con questa io guarda caso avevo questa qui e lo ho lavorato non l'ho mandato quando non è vero non è vero non è vero non è destra signora non sapevo usare l'ho imparato a usare durante non hai le prove non è che tu puoi le prove che sei usarlo questo va a fanculo beh ahi eh no 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 adesso lo spammo per dire faccia puttana porca puttana porca quella che sto usando infatti stai picchiando una bambina mostro di merda no sto picchiando un mostro cazzo dici no un come si chiama ah ho le granate io come si usano le granate prenditele in faccia la bambina toh baby city a te il mio cazzo ma che cazzo ma tu meriti meriti l'amputazione della testa ma oddio la bambina detta anche decapitazione ok 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 io non so cosa cazzo fare adesso no sto spammando la mossa cosa ecco brava bambina brava muore vabbè dai che siamo siamo tu non puoi vincere tirando la bambina in masso adesso dando sempre che fa caldo beh anche guardate i militari muori guarda la bamba no guarda la bamba oh non sarò non sarò mica così stupido di при cascarci ma che cosa hai fatto brava che cosa hai fatto colpisci la bamba che sta ah ok ok situazione critica ma vaffanculo anche la tattica inutile muori ma la 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 non mi arrendo così ok mi arrendo via 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 me ne vado come mi hai chiamato? stavo pensando mi abbasso che mi colpisce con la bambina mi arriva mi arriva la super mossa mi arriva la mossa la fusero d'ade attacca bambina no ah di nuovo no cazzo non puoi vincere così no merda puoi vincere così venerate il vostro nuovo dio ho vinto in queste condizioni ho vinto in queste condizioni vaffanculo vaffanculo tu fammi una mossa e io spammo l'altra va bene va bene ti diverti te ne sto dando come mi arrendo mi arrendo non puoi vincere ogni volta così e io vincerò va contro le leggi di natura va contro le leggi di sto gioco vaffanculo sei inutile inutile quello che prima è il suo personaggio preferito che deve essere difeso anche dalla community adesso lo schifo non mi arrendo lui lui è tipo avete presente non lo so non l'hai vinto ancora è come Mussolini è come Mussolini quando va bene è che il dulcie il dulcie è nostro amico è qua e lì quando invece va male è no colpa del dulcie nooo 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 pfff esplode si ma te lo dà 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 una vecchia che dovrebbe andare in pensione di rendi conto rivincita rivincita adesso rivincita no dai si vabbè ma che palle questa rivincita che palle ma ti ho distrutto con questa qui hai avuto fortuna e basta si si come te la prima volta vaffanculo ti dico sei uno stronzo madonna cara vaffanculo muori merda muori via madonna via ehi te 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 e se fottimi te le sto dando ok no no fottiti no fffanculo allora è tutta fortuna tutta fortuna nooo chi è che le sta dando chi è che te le sta dando nooo oh ma si sta facendo fottere come uno schifo non so aiuto ma è tutto scialdo ripeto le combo qua così e lui le prende e uno vattene via vattene via vaffanculo dai montanti di merda no invece no come vuoi discriminare i montanti hai rotto 9 quarti di cazzo lo sai via si lo so vaffanculo te e muori mi hai fatto esplodere il semaforo vaffanculo 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 basta stai spammando come lo schifo si si e tu ha tirato due calci non fami cominciare l'angolo si infatti avrebbe tutto cominciare all'angolo dovrebbero bollire da sta cosa vattene via e lo sto dicendo io che sto vincendo quindi non puoi vattene via eeeh non posso ho visto io che eeeh ma io sto parando tu non stai parando vattene è il mio computer aaaaaaah visto che io sono l'unico che può editare vattene oh mio dio la granata è sotto il culo non fa un cazzo di danno vattene via ma come fai non puoi bararle no eeeh bimba nooo ho tirato la destina prima sai vero quando? ah no proprio prima che mi stavi picchiando va bene non mi interessa vedi di cesurarla oh ma che cazzo devo fare tutto io qua ma va a cagare io non lo pubblico neanche eeeh allora non pubblicare questa qui taglia taglia direttamente ok non pubblico neanche il gameplay va ancora perchè? no eeeh devo pubblicarne mille cazzo te li tieni ma vai a cagare quindi tagli quel combattimento lì taglio e taglio tutto no facciamo scorpion contro scorpion ok così vedrete ok non lo so dai io cambio tu quale scegli? questo ancora il centro? si è una versione migliore ah fate uguale gara di urdi chiudono di più eh sicurano ancora foresta muci si pura pubblici vero cosa? questo che c'è ok casomai taglia quel combattimento lì che abbia fatto prima così non devi neanche andare via cercare la bestemma no cerca la bestemma e top così mi è sfuggita la gara madonna è un coreano sto qua ma è una figata unica adesso ho capito come vinci sempre tecnici questo qui ma è che no spada non ci fa un cazzo di danno guarda vattene via torna a casa no 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 come cazzo ci faceva il rampino scusate eh lancia il rampino atterramento cazzo è l'atterramento ma affanculo dai il salto di merda e questo è l'atterramento fottiti ho fatto e una è nata ma lì non può battere amico scorpio no non vuoi capirlo ehi 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 ma vaffanculo gioco di merda te ne sto dando e basta 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 dai io vorrei risparmiarti ma ma va contro ma va contro la mia politica cioè uccidere tutto quello che vedo no ti ho salvato come si faceva il rampino così sinistra destra madonna morto ti ho salvato allora quanto è durato? quanto è durato? no 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 veramente io questo gameplay volevo chiamarlo mister L conoscere mosse ma ma non conosce un cazzo evidentemente c'è du livella congiuntivite se ti vado a... ah rivincita basta rivincitore basta si ci voglio provare che due strapalle e prima di farmi vincere la bosta perchè non me ne vado a casa tua finchè non ci riesco infatti quella basta ti faccio vincere finchè te ne vada no fatti no fatti la fermo perché tu hai registrato intanto si vabbè tanto cazzo ma non so se riesco a batterlo ma cosa cazzo vuoi battere a momenti non battevi neanche i bot quando non è vero e ci sono memoria le due le mosse e i bot guarda tu stai tutto nel non far rialzare l'altro è un gioco per nerd di merda cazzocci questo qua ma ovviamente lui ha voluto diventarlo perché è venuto qui a imparare le mosse ma vaffanculo non partono gli attacchi vaffanculo si te la partita mamma mia vattene torna a casa torna a casa vaffanculo ancora noo hai dimenticato una cosa questo te li sto dando te lo faccio io tu non lo fai a me quanto sei su suino vattene a casa no dammi il cazzo di rampino di merda mi diverto no come cazzo ho fatto a prendermi chiaro in aria eh sei morto ho parato si vabbè ma guarda che non avevi vita in pratica l'ultima l'ultima eh dovevo arrivare prima o poi eh dovevo così in attesa che mi arrivasse ok lui basta per decretare se almeno mia sorella è in grado di oh madonna lo faccio vincere stavolta no per decretare se proprio mi hai alato su tutto oppure se almeno ho un bricio di umità mi è rimasto di però a me non mi piace starlo di abito cioè si ha delle belle mosse con la spada se mi incosta qua lo editi tu il video vaffanculo no te lo fatti e allora lo pubblico mi sono rotto il cazzo di editare i video che tu non vuoi fare tu non hai editato nessun video dei gameplay il mio è yes si poi basta io mi edito dai ma vaffanculo allora avete capito quanto quanto lavoro fa mister l per il canale un cazzo tutto il resto è mio come cazzo fai fare quel pugno così come ti ho trollato vieni qua l'ho fatto potenziato cosa l'ho fatto potenziato come si fanno le robe potenziate io lo te lo insegno esistono si devi usare l'energia però si quella la che fai l'ha fatto dell'ammossi speciale mi sono lasciato andare ma torna a casa torna a casa no ma guarda te sta tutto non lasciarmi rialzare l'altro guardate guardate non mi fai rialzare perché sa che altrimenti è fottuto vaffanculo gioco di merda guarda che c'è il montante più schifoso del mondo guardate il gioco del cazzo cazzo non ciò che vattene via sai cosa? non caricare e basta con questo carica non carica carica non carica ah perché l'ho tirata una testina eh ma vaffanculo anche te le due bestemi semplice così dai cadi morto ah quante volte l'ho fatta questa scena schifo quante vinte 5 a 0 aaaaaa eeeh si no aspetta 6 a 0 abbiamo fatto la prima la prima che ho vinto la seconda poi abbiamo fatto rivigita che ho rivinto poi abbiamo fatto il 3 di scorpio ah ma lo guarda stupido se lo guardi guarda noi gli occhi sembra stupido lo so lo so ma tipo cosa devo fare dopo tipo devo fissare ma il gioco mi dice che devo stare qua avanti 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 esci devo andare a fissare esci lo sto pensando in siretto ahahah ha una faccia verpressa tipo chi sono? dove si sono? tipo è un filosofo che si fa perchè l'ho fatto? perchè l'ho ucciso? sembra che sia incazzata adesso sembra quasi triste per quello che ha fatto e l'ho picchiato triste? se l'hai meritato? se l'hai meritato? se l'hai meritato? no forse no ma sei uno stronzo è uno stronzo? no dai non meritavo quella fine io lo odiavo no dai dopo tutto ha fatto anche cose buone per me è uno stronzo è bipolare possiamo finirlo cazzo? sul modo della personalità no niente rivincita basta un culo ok quindi due bestemmia censurare per il Chris come punizione per il mio rapto sto sudando anch'io adesso cazzo infatti basta finiamola qui ragazzi e a zio proprio vedi? no guarda vedi a tua sinistra quello è il tuo incubo va bene? quando lo uso io tu devi scappare devi buttare via la joystick ok guarda che mostro questo qua si è un robot ok beh ci vediamo al prossimo video